Tutto scritto nella convenzione siglata nel 2019, ingresso gratuito per più di 300 ragazzi napoletani in tribuna allo Stadio Maradona. Prima partita utile in calendario, venerdì 13 gennaio, Napoli-Juve. Aurelio De Laurentiis tiene fede a quell'accordo firmato con la precedente amministrazione comunale per la gestione dello stadio, tanto più che la convenzione è agli sgoccioli e va rinnovata prima dell'estate. Nel 2019 non fu facile raggiungere l'intesa. Ai Revisori dei Conti di Palazzo San Giacomo il documento appariva sbilanciato a favore della società sportiva, a danno delle casse comunali. A giugno si deve tornare a discutere della gestione dell'impianto, ma almeno al momento sembra ci sia una buona sintonia tra il patron del calcio Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi. Entrambi vogliono uno stadio che funzioni sette giorni su sette. Insomma una struttura moderna in grado di promuovere sport, comunità, business. Il comune giusto una settimana fa ha stanziato oltre 2 milioni per realizzare bagni per i disabili e per migliorare i dispositivi di sicurezza. Intanto i primi a beneficiare della vecchia convenzione per assistere alla sfida con la Juve saranno 320 minori delle educative territoriali e delle comunità gestite dall'assessorato comunale alle politiche sociali. L'appuntamento successivo invece sarà per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.